Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Come potete vedere da questa splendida maglietta, io sono sempre Davide e sono qui per parlarvi di un argomento che non è propriamente legato alla fisica teorica, alla matematica e alle cose di cui parliamo di solito, ovvero il mio percorso di studi. Mi sono arrivate tantissime domande su Instagram, su YouTube, messaggio privato, quando faccio inbox domanda nelle storie, tra parentesi se non seguite questo canale iscrivetevi immediatamente perché ogni mercoledì escono video di fisica teorica da farvi esplodere il cervello e se non seguite il profilo Instagram ancora di più andate a cercarlo immediatamente, trovate il link in descrizione o potete tranquillamente cercare Spazi Attorcigliati perché lì esce del materiale nuovo inedito quasi ogni giorno, non propriamente di divulgazione, ma talvolta di dietro le quinte, talvolta di approfondimento e così via. Dunque, il mio percorso di studi a me sembra un argomento noioso e facilone, ma mi devo essere reso conto, e questa è la ragione per cui lo faccio, che può essere utile e che forse a me sarebbe stato utile sentire un racconto del genere quando dovevo scegliere cosa fare del mio futuro. Quindi vi racconterò un po' cosa è stato per me, un percorso che mi ha portato dal liceo, dalla fine del liceo, e partirò da lì all'iniziare un dottorato di ricerca in fisica teorica a Monaco, ed è ciò che faccio da sei mesi, tentando un po' di raccontarvi la mia esperienza, muovendomi nel torbido e traendo un po' di conclusioni, sperando che voi non ripetiate i miei errori e che possiate trarne un minimo, un minimo di vantaggio. Dunque, nel 2015, siamo a giugno, ho terminato i miei studi al liceo scientifico, una scelta canonica. Forse a posteriori avrei pure fatto altro, nel senso che gran parte delle nozioni acquisite al liceo scientifico poi vengono cancellate e riscritte da zero durante una triennale in fisica. Quindi fermo restando il percorso in fisica, che forse non avrei scoperto e scelto non facendo lo scientifico, quindi è un discorso che si magna la coda, potete tranquillamente accedere a una laurea triennale in fisica senza aver fatto il liceo scientifico. La popolazione è estremamente varia, quindi non preoccupatevi, si ricomincia da zero. Ovviamente essere un po' pratici nei calcoli aiuta, ma non è assolutamente fondamentale. Dicevo, finisco il liceo e dovevo andare in Inghilterra, dovevo studiare a Londra. Avevo dedicato tutti gli ultimi anni del mio liceo a gestire le pratiche d'ammissione all'università in Inghilterra, in particolare la UCL a Londra. Ero stato preso, dovevo andare a cercare casa e poi mi sono reso conto che non lo volevo fare. Quindi il mio piano di andare a Londra e vivere lì e si è sfumato, è assolutamente andato a ramengo e ne sono contento, perché non desideravo farlo. Quello era il Davide che doveva fare, no? Era quasi un'imposizione sociale, no? Sei... ti riescono bene certe cose, quindi devi assolutamente scappare e fuggire da questo paese, la deriva e tutta questa cosa che ho introiettato. Ragazzi, avevo 12 anni nel 2008, tanti di voi mi capiranno, quindi questo terrore di non riuscire a far qualcosa della nostra vita insito in noi ci porta poi a essere una delle generazioni più depresse e ansiose della storia recente da quando queste cose esistono. Quindi non apriamo sta parentesi, divento full fisher, realismo capitalista e così via, non c'entriamo. Fatto sta che ho deviato il mio percorso all'ultimo secondo e sono andato a Trieste, che sapevo essere un'ottima trennale in fisica. Devo dire che non mi ha deluso. A Trieste ho potuto imparare i fondamentali, quindi tutte le nozioni di base necessarie per accedere poi a un percorso di livello più alto in fisica teorica e poi ad un dottorato. E vi devo dire che in realtà, fatto escludendo certe eccezioni un pochino bizzarre, il livello medio delle lauree triennali in fisica in Italia è molto alto. Banalmente perché la fisica quella è, quindi dipende molto poco dal gusto di un insegnante. L'elettrodinamica, soprattutto ai livelli più bassi, è più o meno la stessa, ovvero è insegnata più o meno nello stesso modo ovunque, seguendo più o meno gli stessi testi, quindi anche l'acquisto dei testi durante una laurea triennale in fisica è molto più semplice che in altre facoltà. Dunque, o banalmente, se un professore non ci piace o con un professore non riusciamo a costruire un rapporto insegnante-allievo, possiamo tranquillamente studiare le materie dai miliardi di testi universalmente riconosciuti come validi. Quindi la fisica ha questo vantaggio. Durante la triennale io ho fatto il possibile per modificare un po' il mio percorso di studi. Quindi, quando ho potuto, ho seguito dei corsi al Dipartimento di Matematica. Questa è una cosa che dovete tenere bene a mente. C'è un certo grado di flessibilità. Soprattutto per quanto riguarda i crediti a scelta, che ci sono sostanzialmente sempre nei corsi triennali universitari, voi potete convincere le segreterie a farvi fare esami di altre facoltà, di altri dipartimenti. Usiamo il linguaggio moderno. E quindi ho seguito prima un corso di geometria differenziale. Quindi tutta quella roba di Gauss sulle superfici e le curve. Poi evolutasi in geometria rimaniana. Tendenzialmente un fisico non incontra la geometria differenziale pre-Riemann, quella dei teoremi di Gauss, del teorema egregium, delle superfici parametrizzate, immerse e così via, salta subito la geometria rimaniana. Ma devo dire che un corso di geometria vecchio stile, di quelli da inizio novecento, mi ha aiutato a farmi un po' le ossa. Devi dare la cera con la mano destra e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. e accedere con maggior facilità alle strutture concettuali proprie della geometria rimaniana. Quindi ho fatto un corso di geometria differenziale, un corso di sistemi dinamici, quindi una roba in cui studiavamo certi tipi di equazioni differenziali che governano l'evoluzione di alcune quantità nel tempo e quindi banalmente ci siamo occupati di modelli chimici, leggi di popolazione, modelli pre-da-predatore per studiare delle popolazioni di pre-de-predatori e risorse fondamentali, quindi carote, conigli, volpi, dati certi dati iniziali, data una certa necessità di energia dei predatori e delle pre-de e un certo tasso di replicazione di predatori pre-de e risorse fondamentali in un ambiente chiuso. Quindi è una cosa super interessante che ti permette di studiare con precisione su numeri grandi l'andamento di delle popolazioni, modelli di pandemia, di diffusione di un virus, di una pandemia. Quindi abbiamo studiato i modelli SIR e tutte le varie differenze, caos e tutta questa roba qua. Quindi, insomma, un bellissimo esame che adesso è stato anche attivato per i fisici a Trieste, quindi mi fa piacere l'idea di essere non proprio un precursore, perché non sono stato il primo a fare questa cosa, ma di aver partecipato alla seconda ondata di studenti di fisica che sono andati a studiare sistemi dinamici. Quindi ricordatevi che tutta l'università è a vostra disposizione e che non è sempre necessario essere iscritti a un corso per frequentarlo. Certo, è sempre bene avere un certificato che attesti la vostra conoscenza, ma c'è anche dell'altro, quindi voi potete tranquillamente frequentare qualunque corso, salvo alcune cose specifiche di laboratorio dove servono certe certificazioni di sicurezza e le cose sono un po' più complicate, ma in linea di principio nell'università pubblica voi potete frequentare qualunque corso senza preoccuparvi, che è anche il consiglio che do agli studenti del liceo. Se siete indecisi su che facoltà frequentare, andate a vedere delle lezioni. Marinate la scuola e andate a vedere delle lezioni. Chiuso qua. È quello che ho fatto io, quindi non credo verrò messo in galera per questa ragione. Dicevo, ho frequentato geometria differenziale, ho frequentato sistemi dinamici, oltre agli esami tipici di una laurea in fisica, quindi diversi esami di analisi, di geometria, tutti gli esami di matematica necessari, gli esami di fisica, meccanica, elettrodinamica, traumatismo, elettrodinamica, circuiti, elettronica, laboratorio, meccanica statistica, quantistica, termodinamica, tutta questa roba qua, fisica delle particelle, della materia, ma gli esami sono abbastanza standard. È inutile che ve li ripetano, li potete andare a cercare su qualunque sito di un dipartimento di fisica. Cercate fisica Trieste, fisica Pisa, fisica Padova, per farvi un'idea sulle minime differenze che ci sono, ma che sono davvero irrisorie. E infine ho seguito un corso scelta di reti neurali. Un corso di introduzione alla teoria delle reti neurali. C'è stato chiarito che, cerchiando in rosso le parole introduzione e teoria, che sarebbe stato un corso molto formale e molto introduttivo, non up to date. Però mi ha dato alcune basi, mi permette oggi di comprendere ciò che succede in questo mondo meraviglioso dell'intelligenza artificiale, almeno di farmelo spiegare comprendendo un po' i termini. Se uno dice perceptro, non so di cosa sta parlando, se uno dice memoria associativa so di cosa sta parlando, e così via. Devo dire, gli esami che mi hanno dato maggior difficoltà sono stati gli esami di laboratorio. Sono un disastro totale. Non esistono più fisici come Enrico Fermi, o se esistono non li conosco. Quelli veramente bravi sia in teoria che in laboratorio. Forse le cose si sono fatte troppo specifiche, tecniche e complesse. Fatto sta che in laboratorio io ho spaccato lampadine, giocato in modo molto rischioso con l'azoto liquido mettendoci dentro dei pezzi di frutta. Non fatelo assolutamente a casa. Ho bruciato dei fusibili, ho bruciato degli amperometri e mi sono rovesciato addosso un litro di vaselina. E vi lascio... non vi racconto perché. Voglio che mi raccontiate nei commenti secondo voi perché in laboratorio, nel buio, mi sono trovato a rovesciarmi addosso un litro, un litro, un po' di più, un litro e mezzo di vaselina diventando tutto unto e muovendomi poi per Trieste come, non lo so, un bastoncino Findus che deve entrare, no? Con quell'odore tipico di frittura. Ditemelo nei commenti, secondo voi, perché al buio mi sono trovato a rovesciarmi addosso tutta questa vaselina. Dicevo, i legami di laboratorio sono stati complicati e duri per me, ci ho messo del tempo. Non ho la manualità necessaria a fare quella roba ed è stato estremamente formativo. Dovermi mettere a collegare circuiti, a barare sui dati per far tornare i risultati di cui avevamo bisogno, a costruire le relazioni di laboratorio ed essere massacrate sulle imprecisioni è stato, dicevo, molto formativo. Poi è più facile, eh? Ogni giorno diventa più facile. Sì? Ma devi farlo tutti i giorni, questo è difficile, poi diventa più facile. Al che sono saltato alla tesi triennale. La mia tesi triennale è una tesi di relatività, è stata una tesi di relatività generale sulla fattibilità teorica dei viaggi nel tempo in relatività generale, in particolare sulla soluzione di Gödel all'equazione di Einstein, tema che tra le altre ho trattato nel primo video di spazi attorcigliati, un pippone di 46 minuti sulla mia tesi triennale, ne vado fiero e ancora sul canale potete trovarlo. Si chiama tipo da Thanos a Gödel l'ineluttabilità della relatività generale, poi questo è diventato anche tema del mio monologo dal vivo che porterò un po' in giro, poi ne parleremo al momento adatto, e di una conferenza che ho fatto di recente al centro di ricerca, aggiornandomi ovviamente sugli aspetti moderni della questione, legati a olografia, DSCFT, string e così via. E su One Plan Conjectures ci sono alcuni punti di contatto, però chiudiamo. Ho fatto una tesi di relatività generale, in realtà mi sono rivolto al relatore con un anno d'anticipo, lui mi ha fatto lavorare molto sulla geometria, sulle teorie di Gage, sulla relatività generale, quindi mi ha insegnato tantissimi o gli devo... non lo so, gli devo un transatlantico d'oro pieno di cuccioli e cioccolato, ho pensato alla cosa più bella dell'universo. Io devo moltissimo al mio relatore trennale, che mi ha dato anche il consiglio di cercare di muovermi un po' durante la mia carriera di fisico, anche solo per dimostrare a futuri centri di ricerca che mi devono assumere la mia capacità di lavorare in diversi ambienti. Quindi sapete, se vi trovate una domanda da un tizio, un curriculum da un tizio che ha lavorato bene, ma ha lavorato bene sempre nello stesso posto e con le stesse persone, è molto difficile separare l'effetto geografico e di vicinanza a queste persone dalle sue vere capacità e da quello che poi farebbe nel vostro dipartimento. Quindi è molto importante cercare di muoversi, esplorare un po', anche per sentire e apprendere, succhiare tutto quello che si può succhiare da altri esperti, quindi imparare, imparare in tutti i modi e conoscere il maggior numero di fisici che si possano dare una dritta e degli insegnamenti di quelli hands-on, di quelli che non trovi nei libri. Quindi ho fatto domanda a Monaco di Baviera. Perché a Monaco ha in realtà un corso intrateneo, e io non lo sapevo neppure, tra la Ludwig Maximilian Universität di Monaco, l'ho pronunciato malissimo, e la TUM di Monaco, quindi le due grosse università cittadine di fisica teorica e matematica. Fa parte di un progetto un po' più ampio, con un nome terrificante, che si chiama Elite Network di Bavaria. È una sorta, un analogo delle nostre scuole superiori, ok? Un analogo delle nostre scuole superiori, quindi la Galileiana, la normale, tutte queste cose qui, in Baviera, che consiste in corsi interdisciplinari, nel mio caso fisica, teorica e matematica, delocalizzate tra le varie università bavaresi. Quindi a Monaco ce ne sono alcune, a Heidelberg ce ne sono altre, a Regensburg probabilmente ce ne sono altre, e così via. Quindi sono corsi un pochino particolari per gente particolarmente strana. Nel mio caso, dicevo, fisica teorica e matematica. La cosa interessante di questo corso magistrale è che mi ha dato una libertà totale nella scelta del mio piano di studi. Adesso che io avevo l'obbligo solo di pescare due esami da un pool di quattro, i cosiddetti core modules, e si trattava di esami a metà tra la matematica e la fisica, insegnati da due professori, un fisico teorico e un matematico. Per me sono stati geometria differenziale, in cui ovviamente il matematico affrontava i temi di geometria rimaniana e il fisico, le applicazioni fisiche, in particolare meccanica simplettica, e un corso di teoria quantistica dei campi, dove il fisico schiacciava in un corso quelli che solitamente chiamiamo campi 1 e campi 2, quindi si partiva da zero e si arrivava pati integral, qi d, rinormalizzazione e tutta questa roba, quasi alle anomalie, quasi, giusto menzionate, mentre il matematico affrontava un tema spesso non dibattuto che è la quantum field theory assiomatica, ok? Quindi una riformulazione della teoria quantistica dei campi, ancora enormemente parziale, ancora da rivedere, ancora bla 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 bla, che funziona ancora in poche dimensioni, non intergenti e così via, persiomi, esattamente come una teoria matematica, quindi in una complessità tecnica infinita, io ci ho capito la metà di quella fa, onestamente ho fatto molta fatica. E poi il primo semestre ho pescato un esame di relatività generale e l'esame di teoria delle stringhe 1, quindi questo è stato il mio primo semestre che poi mi ha avvicinato al mondo di teoria delle stringhe. Al mio secondo semestre l'esame di relatività generale, tra le altre con un grandissimo cosmologo teorico, Mukanov, vi potete spulciare le lezioni su YouTube o il profilo Wikipedia e capirete di che personaggio io stia parlando, uno che racconta tantissimi aneddoti estremamente divertenti e comici, molta poca relatività generale, ma è stato un corso straordinario, io per fortuna l'avevo già affrontata, e questo comunque non mi ha reso l'esame facile, perché era decisamente uno schiacciassassi. Poi, al secondo semestre, io ho seguito un bell'esame di modello standard e cromodinamica quantistica, quindi sostanzialmente fisica della particella è fatta bene, tenuto da via d'vali, un altro massimo esperto del settore, forse la persona da cui ho imparato di più nel corso della mia laurea magistrale. Un esame di teoria delle stringhe due. Un esame di istantoni e buchi neri. Sostanzialmente un esame di teoria quantistica dei campi avanzata e non perturbativa. Tutta quella roba che c'è nello Shiftman Advanced Quantity Theory, quindi istantoni, solitoni, vortici, lamps in varie dimensioni, fasi topologiche, settori topologici dello spazio di Hilbert, Theta Function, Cern Simon Stern in cromodinamica quantistica, tutta questa roba qui, un po' scam, nel senso che il corso si chiamava istantoni e buchi neri e solo nell'ultimissima lezione c'è stata presentata una soluzione chiamata black string in P dimensioni e quando P è uguale a zero quella roba è un buco nero, quindi la parola buco nero è apparsa nel corso giusto gli ultimi 5 minuti, ma facendo YouTube capisco benissimo la necessità di fare un po' di marketing quando si presenta un corso, quindi stringhe due, dicevo modello standard cromodinamica quantistica con dvali, veramente 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 figo, istantoni e buchi neri e poi ce n'era pure un altro, ce n'era pure un altro che al momento non mi viene ma che mi verrà, ve lo prometto con tutto il cuore, quindi quando mi verrà poi aggiornerò questo passaggio. Il terzo semestre ho seguito solo un corso, informazione termodinamica dei buchi neri tenuto dal mio attuale relatore di dottorato e da quello che poi è diventato il mio relatore di tesi magistrale, il professor Lust, Dieter Lust, uno stringhista di vecchia data di quelli bravi 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 e quindi con Dieter ho fatto informazione termodinamica dei buchi neri ma a quel punto avevo già iniziato quindi tutto il tema sull'evaporazione dei buchi neri, il problema dell'informazione che non è un paradosso, solo l'evidenza di come due teorie che sappiamo non stare insieme non stiano insieme, guarda un po' che novità qui, non è un paradosso, ma è un problema, eventuali risoluzioni con getture sui buchi neri quantistici e un pochino di Swampland, non tantissimo, un pochino e quindi questa roba qua, caspita, ma non mi viene l'altro esame che ho fatto perché ne ho fatti nove. Lei ricorda per caso questa faccia? Non lo so, la mia memoria non è un granché. Poverino, certo, forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'hai rinfrescato tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? A quel punto avevo cominciato a fare la mia tesi, ma arriverà a sto quarto corso, a fare la mia tesi magistrale. La mia tesi magistrale è andata in una direzione molto specifica, legata alla ricerca che stava facendo in quel periodo e che sta ancora facendo, che poi è diventata la mia ricerca di dottorato, il gruppo di teoria delle stringhe al Max Planck Institute di Monaco. Quindi ho iniziato a lavorare al centro di ricerca, ho iniziato a seguire le conferenze, a integrarmi nel gruppo come studente di master. Questo è stato molto molto bello, mi ha dato tantissimo da morire, quindi cercate di lavorare con qualcuno che abbia un gruppo di ricerca, perché questo per me è stato fondamentale e estremamente, estremamente stimolante. E niente, ho iniziato a lavorare a Geometric Flow, Richie Flow, che sono i temi su cui poi ho fatto, quindi equazioni di evoluzione geometrica, cose che prendono un oggetto geometrico e lo deformano per renderlo più trattabile, più studiabile, applicate alla teoria delle stringhe, alla possibilità di costruire effettivamente un modello realistico del nostro universo. Quindi preso un certo modello più o meno realistico dell'universo, cosa succede applicando alla nostra costruzione questo genere di equazioni di deformazione geometrica? L'ho applicato al caso di un buco nero immerso in uno spazio iperbolico, a curvatura negativa, uno spazio a tempo iperbolico, quindi a curvatura negativa, un spazio di anti-desittere. Ho studiato cosa sarebbe poi. Ci sono delle cose interessanti, perché questi buchi neri possono attraversare delle transizioni termodinamiche tipo quelle d'acqua-ghiaccio, quindi ci siamo chiesti se il reciflow possa o meno indurre queste transizioni, da dove arrivi tutta l'informazione che serve a ricostruire lo spazio-tempo quando il buco nero sparisce per effetto tunnel quantistico, ma non ci entriamo. A ottobre dell'anno scorso ho discusso, ho difeso, perché si dice così, questa tesi magistrale, questa tesi magistrale, e poi ho iniziato il mio dottorato. Con novembre 2020 ho iniziato il mio dottorato sempre a Monaco, sempre con lo stesso relatore, sempre su questi temi, e il resto è storia. Poi è arrivata la pubblicazione della tesi magistrale, di un paper successivo, che abbiamo appena sottoposto a peer review, di un altro che stiamo per sottoporre a peer review sempre sui buchi neri, e questa è la mia storia. Quindi una laurea triennale a Trieste, una magistrale a Monaco, e poi l'inizio di un dottorato di ricerca a Monaco. Se avete dei dubbi, se avete delle perplessità, se avete... Boom! Come dicevo, se avete dei dubbi, delle perplessità, delle domande, su come sia fare una laurea in fisica, un percorso da fisico, un dottorato in fisica, per quello che vi so raccontare, cosa significhi sottomettere una pubblicazione alla peer review, you submit to peer review your work, sono a vostra disposizione, lasciatemi un commento. Ricordatevi che se c'è una cosa che mi aiuta con l'algoritmo di YouTube, con questa intelligenza artificiale misteriosa e oscura, che decide se i miei video verranno suggeriti o meno ad altri utenti, questo è ovviamente molto importante, sono i commenti, i mi piace e le condivisioni. Quindi commentando, interagendo con questo video, potete sinceramente aiutarmi a convincere YouTube che ne valga la pena e quindi proporre al video il canale ad altri utenti. Io vi ringrazio per esserci stati, vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!